Ognuno risponde e si assume alla responsabilità delle proprie scelte politiche. Vendola è entrata una coalizione che punta dritto al di là di apparenti scaramucce di campagna elettorale, punta dritto a un accordo post-elettorale con le politiche neoliberiste di Monti e quindi Vendola sta dentro una contraddizione dalla quale non potrà liberarsi. Poteva soltanto liberarsi tirandosi fuori dalla coalizione, ma non dopo. Utilizzando come taxi la coalizione al centro-sinistra e così garantirsi i seggi in Parlamento che non avrebbe preso, rimanendo, secondo quello che dicono i sondaggi, al di sotto del 4%, ma facendo con coerenza e senza prendere in giro gli elettori quelli che noi abbiamo fatto, affrontare il rischio dello sbarramento al 4%, dicendo chiaramente cosa noi avremmo fatto, che noi potevamo avere degli interlocutori per una coalizione governativa, purché chiaramente fosse una coalizione governativa coerente con la nostra piattaforma e con i nostri principi, che non ci fosse in alcun modo nessuna prospettiva di accordi né con Berlusconi né con Monti.